In questi ultimi mesi sono sempre più gli investitori e figure di spicco che dicono la loro sull'attuale gestione della politica monetaria da parte della Fed. In primis Michael Berry parlando del calo di moltipli e successivo calo earnings che avrebbe potuto portare un forte ribasso all'interno del mercato anche durante il 2023. Poi è arrivato il raid alio con i rischi recessivi più importanti legati a un tasso di interesse sopra il 4,5% che dal suo punto di vista potrebbe portare un ribasso delle azioni circa del 20% ed ora ritorna anche Elon Musk, CEO di Tesla. Che Elon Musk si esprima senza peli sulla lingua all'interno di Twitter ormai è noto? In questo tweet Elon Musk ha invitato indirettamente la Fed a tagliare immediatamente i tassi di interesse, causa ovviamente un rischio di amplificare le probabilità di una grave recessione sui mercati. Alla discussione su Twitter, se voi noterete, si aggiungono anche altri CEO come Vincent Yu e anche Sven Erich che afferma che la Fed è rimasta troppo accomodante per troppo tempo, interpretando totalmente male l'inflazione per poi avviare un inaspiramento molto rapido come mai prima, senza tenere conto degli effetti futuri di queste manovre aggressive. Ribadendo come il prossimo errore che potrebbe fare la Fed è quello di mantenere tassi alti per un lungo termine. E Musk contrarisponde appunto dicendo esattamente. Dobbiamo ricordarlo, non è la prima volta che Elon Musk avverte di un imminente disastro economico. Il 24 di ottobre ha stimato che una recessione globale potrebbe durare fino alla primavera del 2024. Bisogna anche dire però che oltre la sua previsione in queste ultime settimane stanno arrivando diversi avvertimenti da parte di altri dirigenti aziendali, tra cui il CEO di Amazon Jeff Bezos, oppure ancora il CEO di JP Morgan Jimmy Diamond, oppure ancora il CEO di Goldman Sachs David Solomon. Dobbiamo inoltre ribadire che basta guardare i Fed Watch che adesso scontano un rialzo tassi da 50 punti base, che la Fed sembra stia entrando nelle ultime fasi di una campagna di rialzo tassi, volta a contrastare l'inflazione che si avvicina, ancora una volta ricordiamo, ai livelli più alti degli ultimi 40 anni. Nei giorni scorsi i funzionari della Fed durante le minute hanno dichiarato di aspettarsi aumenti inferiori rispetto ai 4 aumenti conseguiti da 0,75 punti base attualmente arrivati. Quindi il mercato si aspetta, come dicevamo prima, un aumento da 50 punti base il 14 di dicembre. Se così non fosse potremmo vedere un forte, un forte aumento di volatilità sui mercati proprio durante la pubblicazione dei dati. Oggi, inoltre, alle 19.30 parlerà Jay Powell e noi vi terremo aggiornati all'interno del nostro canale Telegram, quindi per cui ti lascio il link in descrizione alla quale puoi accedere in modo del tutto gratuito. Se ti è piaciuta anche questa tipologia di contenuti, clicca like al video, dimmi la tua. Cosa ne pensi? Sei d'accordo con la visione di recessione da parte di Elon Musk o ti trovi in disaccordo? Commenta qui in basso e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.